Come stai Emanuele? La bomba. Solo che mi sono il tercazzo. Con tutti voi che mi state curfiato sul collo, capito? Di stare qua dentro mi sono il tercazzo. Mi sento soffocato. Ecco come mi sento soffocato. Ma che ci fai tu qui? Sono uscito da poco. Da dove? Da l'istituto. Tu madre ha chiesto di essere affidata a te per gli arresti domiciliari. Hai paura di essere responsabile di lei? Non ci faccio più io. Con quei te qua ci devi più venire. Questo non è posto per te. Non li salvo tutto io. Io lo so che li salvo tutto. A me hai rotto il cazzo tutti quanti. Tu pensi che stiamo giocando? Ma guarda che qui parliamo di giudici, tribunali, roba pesante. E lei pensa di essere un'occasione per sua madre? No, io penso di essere Sofia, che è diverso. È una cosa più profonda. È qui dentro di me. Se è arrivata te è arrivata Orzone. Sì, è arrivata Orzone. Sì, è arrivata Orzone. Sì. Sì, è arrivata Orzone. Gio ma. Sì. Gio.